Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al corso di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Per la serie Dumpster recuperati dal cassonetto ho trovato questo monitor della Dell abbandonato che sembra apparentemente messo anche abbastanza bene, nel senso che non sembra neanche tanto troppo maltrattato e andiamo a vedere se riusciamo a recuperarlo perché direi che non è funzionante e quindi buona visione. Questo modello è un Dell E173FPI costruito in Cina che si può alimentare con una tensione compresa fra 100 e 240 volt alternati, 50-60 Hz, assorbimento 1,5 A. Inserisco il cavo della 230, se spingo sul bottone di ON come previsto non succede nulla. Questo credo che debba diventare arancione e poi verde quando è in funzione. Come prima operazione andremo a togliere le quattro viti che tengono fermo il piedistallo. Ora rimuoviamo il coperchio in plastica, per farlo si possono usare diversi oggetti, specialmente un plettro o una carta di credito. Io uso questa basetta che è in similvetronite e effettivamente è abbastanza flessibile e anche robusta, quindi mi permette di fare forza senza sforzare troppo la parte plastica. Mi metto qui esattamente al centro, sotto il simbolo della Dell, e faccio pressione come se fosse un cacciavite. Ora proseguo lungo i bordi, in modo che si sgancino anche gli altri, così. Una volta che sono stati aperti tutti i gancetti, ecco che viene via la cornice. Ora scolleghiamo i due connettori che arrivano dal pannello frontale. Con una pinza a becco lungo, si tratta di fare un po' di pressione. Ecco. Ho ripetuto la stessa operazione anche dall'altra parte del pannello, e quindi credo che si tratti in realtà dei cavetti dell'inverter, perché sono due di qua e due di là. Qui abbiamo questo pannellino con scritto push, quindi immagino che io debba rimuovere questa vite, che lo tiene fermo, e poi probabilmente, semplicemente slittandolo, ecco, viene via. Ora, per avere accesso alla scheda di alimentazione, dobbiamo togliere le quattro viti poste qua sui lati. Prima di rimuovere il coperchio, è necessario anche scollegare questo connettore. Per scollegarlo bisogna utilizzare un cacciavite, facendo leva prima da una parte, molto dolcemente, e poi dall'altra. In questa maniera, il connettore si può rimuovere facilmente. Ho separato il pannello dal coperchio metallico. Qui abbiamo la nostra scheda di alimentazione, e rimuoviamo queste sei viti, e poi avremo accesso direttamente alla scheda. Per rimuovere del tutto la scheda, dobbiamo togliere anche questa vite, che assicura la connessione con la carcassa, e poi questa parte plastica, che è la presa della 2,30, andando a rimuovere le viti che sono qui sotto, e anche le viti del connettore VGA. Ecco come si presenta la scheda di alimentazione. Ho tolto anche il frontalino che era presente sul monitor, con i bottoni presenti a frontale e il LED di accensione. Il monitor quindi ha questa scheda principale, e dall'altra parte è la scheda di T-Con per la gestione del segnale. Qui sopra abbiamo il power supply, quindi in questa zona, la parte di controllo inverter, e poi qua abbiamo anche la gestione del segnale grafico. Vedete che abbiamo il connettore VGA. Il convertitore switching si sviluppa in quest'area, quindi partendo dalla 2,30 riconosciamo la connessione di terra, il solito filtro IMI costituito dalla bobina di modo comune, condensatori in classe X, il ponte raddrizzatore, e l'elettrolitico dove viene accumulata la tensione livellata. Poi abbiamo questo magnetico che sarà responsabile della parte di isolamento tra la parte hot e la parte cold, e di conversione di energie tramite questi semiconduttori. Notiamo dei condensatori elettrolitici, probabilmente per la parte di secondario, e le uscite le preleviamo direttamente su questo connettore. Come sempre facciamo una rapida ispezione visiva, utilizzando i nostri sensi, vista, olfatto, tatto, per cercare di capire che non ci sia qualcosa di palesemente guasto, e da una prima analisi non sembra esserci niente di strano. Andiamo da prima a verificare la continuità del fusibile, anche se si direbbe che è intatto perché si vede il filo integro al suo interno. Multimetro in continuità, andiamo a toccare le due estremità del fusibile, infatti è buono. Ora alimentiamo la scheda con la 230, mi raccomando sempre massima attenzione, fate queste cose solo se siete esperti, e se non lo siete fatevi aiutare, perché come sempre la sicurezza elettrica, prima di tutto, possono esserci gravi conseguenze. Alimento direttamente con la 230, perché molto probabilmente questo switching si porta in protezione, e abbiamo visto prima che non succede niente di strano. per cui diamo la 230, qua non si accende niente, proviamo a spingere il bottone nulla, andiamo a vedere la tensione in continua sui capi del nostro condensatore elettrolitico, e qua come atteso abbiamo la 312 volt, quindi direi che da questo punto di vista il ponte raddrizzatore è funzionante, e abbiamo la nostra tensione livellata, ma lo switching non sta funzionando. Come capita spesso in questi casi, non abbiamo lo schema elettrico, cerchiamo di ricostruirlo guardando il lato saldatura in particolare. partendo dal connettore d'ingresso della 220, riconosciamo questo percorso che ci porta a questi condensatori di sicurezza, bobina di modo comune, il ponte raddrizzatore con le due alternate in centro, il più e il meno, qua ai lati, il più arriva sul grosso condensatore elettrolitico che abbiamo visto prima, e poi prosegue da questa parte con questa resistenza di basso valore, e con questo diodo arriva in questa zona. Quello che ci interessa a noi però è quest'area qui, infatti qua riconosciamo il mosfet che va a commutare il magnetico del nostro switching, quindi questo mosfet è comandato da un controller che è saldato dall'altra parte perché è un smd, quello che ci interessa però è il positivo di questo condensatore che appunto segue questa pista, vedete che c'è questa pista che va da questa parte e ha una via da questa parte, quindi porta la 300 volt continua sul nostro controller per alimentarlo, quindi il PWM controller riceve all'accensione del nostro sistema un guizzo di 300 volt in modo da poter partire. Andiamo a vedere il lato componenti. Qui abbiamo il nostro mosfet, questo è il controller che è della famiglia SG6841, il pin di alimentazione, il VDD è il 7, e se guardate bene qui abbiamo questa via che arriva direttamente a questo condensatore smd, il quale poi è collegato al pin 7. quindi al momento dell'innesco della 300 volt questo controller dovrebbe alimentarsi, partire, pilotare il mosfet e a questo punto si autosostenta con l'avvolgimento di servizio. Ho eseguito la misura con il multimetro dell'integrità dei semiconduttori che sono in questa zona, quindi sia il mosfet che i diodi che sono presenti in scheda risultano essere operativi. Inoltre sempre con il multimetro sono andato a vedere che non ci fossero dei corti lampanti su questo controller, ad esempio fra il pin di comando, che è l'8, che è collegato al gate di questo mosfet, e la massa, ma sembra essere tutto isolato. Mi posiziono con una sonda 100A1 direttamente sul pin 7 dell'integrato, per vedere se all'avvio arriva la VCC, quindi la tensione di alimentazione che dovrebbe accenderlo. Con il trigger in modalità normal questo segnale non si muove, rimane a zero, nonostante abbiamo visto prima che la 300 volt arriva all'elettrolitico. Appena ho dato tensione è saltato il fusibile, quindi cerchiamo di capire cosa è successo. La prima cosa che mi viene da pensare è che sia il mosfet in corto, quindi ci mettiamo con il nostro multimetro in modalità prova aggiunzione, andiamo a mettere il negativo sul gate e il positivo sul source, di modo che andiamo a scaricare la nostra eventuale carica dentro il mosfet, così lo spegniamo e vediamo se riusciamo a vedere il diodo. No. Con la pompetta ho liberato le pad dallo stagno, per cui adesso possiamo semplicemente sfilare il mosfet. Provo il mosfet a banco per vedere che sia proprio lui, quello guasto. Eh no, questo è buono, quindi c'è un corto fra i pin in parallelo al drain e il source su la scheda. Ripeto la misura sul circuito stampato senza mosfet, vedete che il corto è ancora presente. Una delle prime cose da verificare è questo condensatore, che si trova esattamente in parallelo fra il drain e il source, infatti vedete che c'è questa pista che riporta questo aeroforo e quest'altro collegato al drain. Il condensatore in questione è questo qui davanti, che è un ceramico, lo andiamo a disaldare. Verifichiamo anche il condensatore a banco? No. Condensatore buono. Come prima cosa verifichiamo se il nostro PWM controller ha le condizioni per partire. Infatti dalla 300V livellata c'è una pista che passa qui sotto e poi attraversiamo queste due resistenze di alto valore e vedete che hanno una shape SMD anche ad alto isolamento, poi da qui si arriva al pin 3, che è la VIN, quindi è la tensione che abilita il nostro PWM controller. Prendo la misura con l'oscilloscopio, con la sonda 100A1, con il negativo sul condensatore e la punta direttamente sul pin 3. La tensione rilevata è di circa 6V di picco stabile, senza problemi. Misuro anche il pin 8 del nostro PWM controller, quindi il comando al gate del MOSFET. Una tensione costante a 2.6V circa, quindi c'è qualcosa che non va sul controller. Il controller sembra alimentato, ma in realtà non sta fornendo il comando al MOSFET. E ora incomincia la cazza al tesoro al nostro PWM controller. Il datasheet originario di Firechild è un SG6846B. Firechild è stata poi presa adesso da ON Semiconductor e questa parte è dichiarata obsoleta, quindi sicuramente non la si trova facilmente nei rivenditori online. Di solito io cerco prima DigiKey, Mouser, RS Componenti, Farnell, Distrilec, ma in tutti questi non si trova. Ad esempio, se vado su Mouser, vedete che la parte non viene neanche trovata nei database di archivio. Quando la situazione è questa, io di solito mi affido a dei siti come Finechips, che offre delle ricerche su broker e si trovano ovviamente. Il problema è che il prezzo a cui vengono venduti di solito è abbastanza altino e soprattutto esiste un minimo ordinabile, quindi difficilmente si riesce a avere qualche campione. Di solito lo stock minimo è da 25, addirittura 50. Inoltre anche i prezzi per la spedizione sono molto elevati perché difficilmente si trovano magazzini in Europa. Un altro motore molto potente, anche per le alternative, è Octopart. Anche qua vengono date diverse possibilità. In questo caso abbiamo trovato questo fornitore che è Quest Component. Purtroppo anche questo chiede un minimo ordinabile di 25. Il prodotto comunque vedete che è dichiarato discontinuato, quindi non è più facilmente reperibile. In questa situazione quindi mi sono rivolto direttamente a un broker di Hong Kong con il quale ho già avuto dei rapporti in passato, che secondo me non è malaccio, nel senso che mi permette di fare acquisto componenti anche con piccole quantità, ad esempio 5 o anche meno, e con l'occasione poi ho preso diversi componenti che avevo in ordine. Quindi mi sono rivolto a questo HK Running che ha tutta una serie di componenti pronti a magazzino. Nel giro di una settimana è arrivato il pacchetto da Hong Kong, ovviamente il costo di spedizione è stato attorno ai 20 dollari. Comunque avevo anche altro materiale e quindi andiamo subito a prendere i nostri PWM controller. Ecco quindi arrivati i nostri PWM controller, poi ho preso anche dei transistor di 2SC 2078, che sono dei transistor che vorrei provare per la bobina di Tesla planare, perché sono transistor che lavorano a 27 MHz di solito e quindi dovrebbero andare bene. Ci tenevo a ringraziare i miei patrons, perché è il loro contributo, poi serve a coprire anche questi costi di reperimento componenti e trasporto. Con stagno da ambo le parti dell'integrato, pinzette e mano veloce, ho tolto questo controller, ora ci prepariamo a pulire le piazzole e andremo a mettere del flussante nuovo per la saldatura del componente in sostituzione. Ecco il controller in sostituzione in pista, andiamo a fare la prova. Ho collegato il cavo della 230, qui abbiamo il nostro pannellino di interfaccia che terremo sott'occhio, diamo la 220, spingiamo il bottone di power on, no, non è cambiato nulla. Ho ricollegato i cavetti che portano alle lampade del display e collegato il cavo della 230, diamo tensione con la presa e spingiamo sul bottoncino, vediamo se accade qualcosa, no. Questo dovrebbe diventare arancione, perché non è presente il segnale video, però essendo presente la 230, se tutto va bene, questo deve accendersi. Ora vado a rilevare la tensione direttamente sul MOSFET, quindi metto una sondina sul drain e con riferimento al suo source. Ovviamente quando faccio queste misure con l'oscilloscopio, mi trovo isolato da terra tramite trasformatore di isolamento applicato direttamente al nostro switching. Con il nuovo controller vedo finalmente il MOSFET che funziona. Infatti se vedete abbiamo queste commutazioni, sono delle piccole commutazioni, d'altro canto siamo a vuoto, però rispetto a prima il MOSFET è ritornato a essere pilotato. Ora ho una base tempi di 8 millisecondi a divisione, se vado ad aprirla per vedere un pochino più nel dettaglio cosa accade, ecco il nostro impulso di conduzione del MOSFET, una larghezza di circa 500 nanosecondi. Dunque abbiamo visto che il MOSFET commuta, poi abbiamo questo magnetico e il cammino per la generazione delle basse tensioni che servono alla T-CON, come la 3, 3V, 5V, è svolto in quest'area. In particolare sono interessato a questo, che è un DC-DC converter della ANA chip, è un AP1506-50, quindi lui deve generare la 5V. Andiamo a vedere tra i pin di ingresso, quindi la VIN e GND, se si vede tensione. Forniamo tensione, nulla, come vedete è rimasto 0V, quindi c'è qualcosa che non va in teoria da quest'area a quest'area. Al secondario del trasformatore di switching troviamo questo semiconduttore, che dovrebbe essere un diodo Schottky, infatti è un SRF10-10. Andiamo a vedere se questo diodo è integro. Col multimetro in modalità prova aggiunzione ci mettiamo tra il centrale e un esterno e l'altro, che poi va beh è la stessa cosa perché questi sono in corto. Quindi vediamo effettivamente un corto. Mettiamoci in ometro, a vedere che tipo di resistenza viene vista. in questo verso 0.5, in quest'altro 0.5. E questo non va bene perché un diodo Schottky, per quanto abbia la tensione bassa, deve comunque bloccare il passaggio di corrente sulla direzione. Quindi a meno che non ci siano componenti in parallelo che falsano questo tipo di test, questo sembrerebbe essere rotto. quindi lo andiamo a disaldare. Andiamo a testare a banco questo nostro diodo. Ci hanno fatto la cortesia di indicare sul case, vedete, i diodi. Quindi cominciamo dal diodo questo qui, quindi anodo-catodo, buono, tensione di soglia 201 mV. Andiamo a vedere quell'altro, il gemellino. Eh no! Questo è in corto, eh! Ok, quindi un diodo era buono, l'altro è in corto, ma siccome sono in parallelo, è praticamente come avere un corto. Quindi non abbiamo più raddrizzamento sul secondario e questo spiega la tensione 0 su il regolatore della 5V, il DC-DC-BAC. L'SRF 1010 è un diodo Schottky, qua è rappresentato con un solo diodo, in realtà esiste anche con package, con due diodi Schottky a catodo comune e il nostro, essendo meno 10, regge 100V e porta 10A. La tensione indiretta, stavo guardando, che non è poi così bassa, perché è 0,85V e quindi, anche se non ho uno Schottky, ma ho un diodo che riesce a portare quella corrente, quella tensione e con una caduta indiretta paragonabile, potrebbe andare bene come sostituto, anche perché non è un oggetto così facile da trovare. Mi trovo in casa questo STT-H602C, che è un fast, anzi un ultra fast diode ad alta efficienza, come vedete ha due diodi a catodo comune, non sono Schottky, però riesce a portare 30A, addirittura per due, e 200V di tensione, quindi come tensione corrente ci siamo. La caduta indiretta, andiamo a guardarla subito, eccola qua, come vedete è dichiarata massima a 0,84V, quando però ci sono 30A, quindi direi che è un ottimo sostituto, a parte il fatto che è un package TO247, invece di un TO220, quindi dovremmo in qualche maniera adattarlo. qui il vero problema è il passo fra i pin e anche la larghezza, allora con una pinzetta ho preformato, facendo in modo che invece di uscire dritti, i pin del TO247 abbiano questa curva, in questa maniera riusciremo a coprire le pad, e poi adesso sui fori, cercheremo di adattare la larghezza del pin, in modo che possa entrare nei fori. Ecco il nostro package TO247 in ginocchio, vedete che ha i reofori che sono piegati, poveretto è un po' sotto sforzo, però è riuscito a entrare, fortunatamente le pad del circuito stampato erano abbastanza grandi per questi reofori. Ovviamente il foro del dissipatore non va più bene, perché non riesce a centrare questo, ma per l'aderenza del package al dissipatore troveremo un'altra soluzione. La cosa importante è che in altezza vada bene, e che soprattutto il contatto qua sulle pad sia buono. Andiamolo a saldare. Così per curiosità andiamo a vedere cosa rileva il multimetro su questo nuovo diodone. 0.326 su questo lato, vediamo l'altro, 0.328. Quindi con la polarizzazione di questo multimetro, che è una corrente più piccola ovviamente di quella che circolerà, la tensione di barriera di questi diodi è 0.32. Beh, non è neanche male. Ho ridato la 2.30, in ingresso al nostro DC-DC abbiamo stavolta una tensione di 2.1 volt, un po' bassa, però teniamo conto che siamo in una modalità in cui non è collegato niente, quindi magari c'è una questione di enable. Vabbè, adesso proviamo a riattaccare anche il monitor e vediamo se cambia qualcosa. ho rimontato tutto, nuova prova, tasto, no, non accade ancora nulla. però abbiamo una novità. Adesso provate a sentire, si sente un ticchettio. non so se si sente sul video, comunque è un tipico rumore di un qualcosa che entra in protezione. Una tensione così bassa come abbiamo misurato prima qua all'ingresso del nostro DC-DC fa pensare che ci sia qualcosa che stia caricando un po' troppo. Ora, siccome la zona di secondario dello switching ha diverse aree, ha questa parte sulla alimentazione della nostra T-Con e poi la gestione della parte grafica e poi quest'altra che è dedicata invece all'inverter per l'alimentazione delle lampade e abbiamo questa resistenza di bassissimo valore che mette in comunicazione il positivo di questo secondario con quest'altra area. Quindi quello che si potrebbe fare è alzare un attimo questa resistenza così sezioniamo tutta questa parte e vediamo se questa tensione al secondario ritorna un po' più alta di quei 2V visti prima. Alzando questa resistenza in realtà il circuito non funziona perché effettivamente c'è anche la rete di feedback. Infatti vedete che qua abbiamo l'opto isolatore che riporta la tensione sul controller per cui se questa rete è aperta la tensione qua è zero. Sempre nel tentativo di isolare un guasto ho rimosso per un attimo anche questa induttanza che risulta essere sul negativo di ritorno di quest'area dell'inverter ma non cambia niente quindi la possiamo rimontare. Ora ci concentriamo sul PWM controller. Questo è lo schema applicativo da datasheet e come vedete la tensione di sostentamento WDD al pin 7 è data da un avvolgimento di servizio. Andiamo a vedere con l'oscilloscopio che forma d'onda ha questa tensione che ce l'aspettiamo continua una volta che è innescato il nostro controller. Ecco l'aspetto della nostra forma d'onda. Come vedete non va bene nel senso che abbiamo una carica del condensatore che è dato quando il PWM controller è spento tramite le resistenze sul condensatore di rivelamento. Appena si accende il PWM controller abbiamo il crollo di questa tensione come se il nostro trasformatore di servizio con il suo avvolgimento non riuscisse a sostentare questa tensione. Ho sostituito la capacità in parallelo all'alimentazione del nostro PWM controller con un nuovo condensatore. Andiamo a vedere con l'oscilloscopio la tensione sui capi. Non troviamo un valore stabile di tensione ma questa forma d'onda seghettata che varia tra 10.6V e 17V. Ho la necessità di controllare questi due diodi. Questo ha l'anodo che è direttamente collegato al positivo del grosso condensatore di livellamento. Il catodo è in comune e l'anodo da quest'altra parte è collegato al drain del MOSFET. Il problema è che si trovano in parallelo all'avvolgimento del nostro trasformatore per cui se andiamo a misurarli così troveremo dei corti circuiti perché vedremo la bassa resistenza dell'avvolgimento. Quindi adesso andiamo ad alzare questi due piedini in modo che così riusciremo a testare i diodi in maniera indipendente. Qui abbiamo i nostri due diodi con le zampe alzate. Cominciamo da questo quindi anodo eh questo è in corto eh andiamo a vedere quest'altro no questo è buono questo qui è in corto circuito quindi lo andiamo a disaldare subito. Il diodo D853 in realtà è un TVS quindi un transil cioè un soppressore di transienti come vedete è un tipo P6KE nel mio caso 150A quindi 150A e serve appunto per sopprimere i transienti con potenze che può gestire fino a 600W impulsive. La situazione dovrebbe essere la seguente ho trovato in corto circuito questo che è un TVS di tipo P6KE 150A e quindi è monodirezionale quindi è un diodo Zener con una tensione di breakdown di 150V e quindi entra in conduzione se e solo se la tensione è superiore a questo valore. Hanno realizzato su questo schema la protezione bidirezionale mettendo dall'altra parte un diodo fast che è un FR1010. Ora se questo è in corto circuito come lo abbiamo trovato capite che il nostro flyback transformer non può essere magnetizzato bene dal nostro MOSFET infatti tutte le volte che si accende e soprattutto si spegne qua abbiamo dei ricircoli di corrente che sballano completamente il comando quindi ora andiamo a sostituire questo TVS siamo fortunati perché nel cassettino delle protezioni dove tengo tutti i MOV SIOV varistori e anche TVS ho trovato proprio quello che serve a noi quindi questo è quello che abbiamo tolto andiamo a sostituire l'alternativa ho messo in pista il nuovo TVS vado a mettermi adesso con le due sondine sulla capacità che è in parallelo all'alimentazione del PWM controller in pratica all'avvolgimento di servizio qua se vi ricordate avevamo quella tensione ballerina tra 10 e 17 volt vediamo se è cambiato qualcosa rullo di tamburi diamo tensione tac eccola lì che sale attenzione questa tensione mi sembra veramente stabile guardate abbiamo mi sono messo con 5 volt di visione andiamo ad accendere le misure quindi abbiamo una tensione stabile a 14 volt non scende più quindi adesso andiamo a vedere il resto dello schema mi sono anche accorto che si è acceso il led verde questo promette molto bene perfetto adesso cerchiamo di ricollegare tutto il resto del sistema quindi led verde significa che lo switching sta funzionando e sta generando le tensioni 5 volt 3 e 3 e tutte le tensioni ausiliarie andiamo ora a vedere la tensione che c'è in ingresso al regolatore quindi tra i pin 1 e 3 1186 perfetto vediamo tra i pin 2 e 3 4.97 quindi abbiamo la 5 volt e questo spiega poi anche il led verde ovviamente ho ricollegato i cavetti dell'inverter sia di qua che di là e il connettore della scheda di controllo ho ricollegato il minimo necessario per fare una prova generale momento della verità diamo tensione led verde yeee ecco l'immagine recuperata il power supply è stabile come vedete alimenta anche le lampade dell'inverter tutto regolare molto bene ragazzi grande soddisfazione anche perché questa scheda aveva un bel po' di guai adesso spegniamo e devo fissare tutte le viti perfettamente dobbiamo rimontare tutti gli accessori come ad esempio questa mascherina metallica per il connettore vga in modo che poi non ci siano problemi di compatibilità elettromagnetica ho rimontato completamente il monitor ho fornito un segnale video tramite vga tutto ok vedete qua abbiamo anche il menu quindi direi che siamo a posto cerchiamo ora di ipotizzare cosa possa essere successo io credo che il primo guasto sia avvenuto sul lato secondario con questo doppio diodo sciocchi che se vi ricordate abbiamo trovato in corto questo forte carico al secondario ha provocato uno sbalzo qua sul primario creando una sovratensione e l'intervento di questa protezione di questo tvs il quale non ha retto il picco di corrente e tensione e si è messo in corto a questo punto a sua volta il pvm controller deve aver risentito di questa sovratensione perché era completamente non funzionante poi questo tipo di guasti può fare anche intervenire il fusibile quindi la sequenza è sempre appunto da secondario verso primario e con questo termina il video di stasera come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su anzi è il caso di dire il guasto è stato riparato il like è meritato ciao e alla prossima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.